Il GIP del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto ha disposto il giudizio immediato nei confronti di Giuseppe Barba, 66 anni, l'ex suocero dell'ex presidente del Consiglio Comunale di Favara, Salvatore Lupo, 45 anni, ucciso lo scorso 15 agosto all'interno di un bar del paese. Giuseppe Barba è accusato dell'omicidio premeditato del genero Salvatore Lupo, freddato con tre colpi di pistola davanti al bancone dove aveva appena ordinato un gelato. Secondo gli inquirenti e i carabinieri della tenenza di Favara e della compagnia di Agrigento, l'anziano avrebbe ucciso l'ex genero per motivi economici e per i dissidi legati alla separazione della vittima con la figlia dell'imputato. Barba sarebbe stato tradito dalle immagini di un video estratto dalle telecamere di un impianto di videosorveglianza che immortalava la sua Fiat Panda mentre effettuava un tragitto nella direzione della via 4 Novembre, dove in un bar era stato commesso l'omicidio dell'imprenditore che gestiva una serie di comunità per disabili e operava nel settore dell'edilizia. Proprio su quell'auto, grazie all'esame dello stub, sono state trovate, in particolar modo sul volante, tracce di polvere da sparo che avrebbero confermato i sospetti dei carabinieri, tanto da fare scattare il 9 settembre scorso il fermo della Procura.